Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Pescara-Terboli. Da questa mattina all'intorno alle 4 siamo qui dinanzi alla stazione di Fossa Cesi a Torino di Sangro e praticamente c'è stato lo svio di ultimi due carri di un treno merci poco più avanti nei pressi di una galleria. Nessun danno per fortuna alle persone, si sono subito portati sul posto i tecnici di rete ferroviaria italiana per fare le verifiche. Sono stati riprogrammati ovviamente tutti i treni che percorrevano questa tratta e sono stati anche attivati dei servizi sostitutivi con i bus. Il fatto, come dicevamo, si è verificato intorno alle 4 di questa mattina mentre il treno stava facendo manovra per comporre i vari carri. Il treno di Mercitalia trasportava i furgoni Ducato della Sevele e si stava componendo in attesa di partire. Era diretto al nord. Disagi ai passeggeri dei treni in transito sulla tratta adriatica. Sono stati attivati i servizi sostitutivi con dei bus. Ne sono stati attivati 13 da Termoli e Pescara per i treni a lunga percorrenza, 4 tra San Vito e Basto per i treni regionali. Ora sarà anche la polizia ferroviaria ad indagare sull'episodio. Si sta lavorando per ripristinare al più presto la viabilità. Alcuni treni sono stati cancellati, altri parzialmente cancellati nella tratta, sostituiti appunto con i bus.